Hehehe, sono Pazzox e ben ritrovato in questo nuovissimo video E oggi ragazzi, anzi questa sera, la reazione all'evento finale del capitolo 3 Prima di visionare questa faccia e le urla di Simone, come al solito Inserisci il codice Pazzox all'interno dello shop di Fortnite se vuoi supportare questo creatore Il tuo supporto garantirà tantissimi nuovi video e tantissime nuove stories E là, dove siamo? Come siamo in corso? No, io vedo una televisione, 41 minuti ragazzi Oh Simone, andiamo... Ragazzi dai che inizia il film Guardi, non ti metti davanti alla televisione che fa male gli occhi, eh Simone, mi posso buttare? No, Simone! No, Simone! Tornato! Tu hai finito? No, di raro! Qualcuno sta facendo interferenza con i cuccani Che paura, mi sto spaventando questa gente, oh! Che succede? Cosa? No, sono le altre persone della... Sì, sono le altre persone Mi sono cacato io, che jumper Ma è voluta come cosa? Sì! Due... Uno... Zero... Esplode tutto? Esplode tutto! Oh! Ragazzi, The Ring! Dobbiamo entrare in tv? Dobbiamo entrare? Ci sta paradigma in mezzo No, mi sa che entrano la tv di noi Vedo tutto bianco Ah, è il trailerone, ok Mi sentite? Sì Bellissima, sempre centro Io non sento Simone Non sento Simone, no Il tornado No, non ci sente Non ci sente Simone No, Simone Oh, l'araldo E signorina Si calmi Ma non poteva farlo prima queste cose qua L'assabilità, bellissima Oh no, è mortale Ci vogliono un po' di colpi, eh, per buttare giù Però Guarda, la lingua d'argento è bella Sta diventando di cromo Sì Oh no Cosa sorride? Ah Esploti, mamma mia Oh, tutto è bene Quel che finisce bene Non credo Comunque c'è anche Rox Non credo Galactus 2.0 Galactus 2.0 Adesso ho fame Eh sì, l'araldo Eh sì, l'araldo ha fame Ah Beccati sto 5 Oh, no I piedini Nooo Centurione Si vola? What? E' da under Perchè volano adesso? Perchè qua volano? Perdono curiosità col cromo Oh, oh Oh mamma Gli asmembrati Oh mamma E' tutto uno con l'albero adesso Pure lei è morta Tra virgolette Oh, non è tutto cromo L'amà Tutta l'isla Ma cos'è quel pianeta? Beh, finalmente è tutto scoppiato ragazzi Finalmente Dopotutto Eh Cos'è? Tu vedi? Sono io Ah, sono solo asteroide? Credo Sto volando No, sto svolazzando Andiamo svolazzando Aiuto Sì, pure io sto svolazzando Silenzio un attimo Silenzio un attimo Aiutatemi Sto volando Oh, il punto zero Una luce Una luce, una luce Io posso muovere la schermata Ah, è vero, sì Oh Rapporto di stato Amy, rapporto di stato Signorina Amy Oh no Cos'è quel tentacolone? Fluo È il tentacolo Un altro Beh, quindi Respiriamo nello spazio Tranquilamente Non c'è più una casa Stai calma Paradigma Beh, io sono un robot Sto svolazzando Mi ha preso Aiuto Aiuto Sto arrivando anch'io La parte di un aereo Un lama Come un lama Alzare il furcoggino di pomodoro La pizza Ah, vedo un manzo gigante La luce La luce La luce La luce La luce La luce Aiuto Di fogliolino Oh Che succede? Oh Fa le missioni Io Evento Partito evento Regà Nella mappa Attenzione Sto prendendo altri pezzi di mappa Forse Vuoi vedere che prende tutti i pezzi di mappa E li unisce E questa diventerà la mappa vera e propria E ho paura di sé Come teorizzavano in molti C'è anche un ufo Tra l'altro Lontanissimo Del capitolo 2 Perché giustamente da sotto Perché era giustamente da sotto la mappa Questa è la mappa del capitolo 1 Ma questo non è lo scheletro del cattus Sto sbagliando Che succede la luce? Sto venendo avanti lo stesso Vedi flashback Sto vedendo un flashback Attenzione Oddio il mostro Della stagione 9 sto vedendo Ti fa vedere gli eventi Eh sì, lo stagione Silex Bella questa cosa Ma che ci stanno prendendo i pezzi Bella questa cosa Sta prendendo un pesco salto Cosa prende? Cosa prende? Gennaro guarda Sta prendendo una cosa lontanissima Sta prendendo Credo che stia prendendo Tutti i pezzi delle vecchie mappe Di tutte e tre Sì Non c'è altra spiegazione Perché c'è anche sotto giustamente la roba Che cos'è? Si è rotto tutto Ma cosa le palle siete? Ciao Gennaro Ma c'è un altro pezzo di picco polare Un altro pezzo di picco polare Queste sono le sfide da completare Durante l'evento Gennaro Simone scusami Aspetta ti colpisco e ti butto giù Vieni Simone Non è il punto zero Simone Voglio vedere il flashback Un attimo solo Qua ci sono 5 sicuro Eccolo Sono diventato Oh no uno che viene schiacciato Posso buttare finalmente un po' Non me lo spiaggia fuori E poi distrutta Sì Di nuovo Per l'ennesima volta Si sono 8 questo Si sono 8 E' la pinnacoli distrutta Della season 8 Quindi diversi tempi Sono i diversi realtà Diversi tempi Si Come ci arriva E ho lisciato l'isola Mo' sta prendendo l'albero Guarda è lì Ho chiamato Lo sta allontanando No lo sta prendendo E ci sarà l'araldo Con fiche da dentro Morta Guarda che è così Non sembra l'albero In realtà Non lo è No sembra solo un albero normale C'è una radice C'è altro No la vedo l'araldo La vedo E' lì E' lì E' lì Fa parte dell'albero E' niente Si va Rampino Ma dove lo vedete Eccola guarda Ma è detta Lo scienziato Attenzione Individuo a frammento La nostra sopravvivenza E' più importante Si sacrifica Paradigma Vai Fallo per tutti noi Dove è l'araldo Ah alimentate di quel punto zero E auguratemi Buona fortuna Ah ecco Oddio Ma è rimasta Rimasta lì Impalata Poteva andare su Tridon Simone guarda C'è Il coso di Foschi Laggiù L'avevi salutato All'inizio del capitolo 3 Mori torna Ma sta tornando per me Simone 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 Ricorda Ricorda di pagare le bollette Simone No Cosa sta prendendo Voglio vedere Di nuovo bianco Siamo morti Trailer Attenzione Trailer Ah è parte il trailer Chi E' la realtà dove è andata Paradigma Si Ma è tutto ghiaccio Ma voglio sapere Io Ok Inizio a prendere i posti I luoghi Signorina Che velocità Quindi prende anche posti nuovi Non solo posti vecchi Oh no Ma quello Si E' il Geralt Che ci siamo spoilerati prima Ma Ecco Era stai scedi In quel piccone Ma che è sul Ho visto un giorni si virata sul Ovviamente Volca no Mi s'ho visto Mi s'ho visto Mi s'ho visto Queste milioni di donne Se questo è il passo ragazzi Non vedo belle cose Non le vedo le belle cose Però la mappa forse potrebbe essere bella La mappa nuova Se vuole E vola questo L'avevo detto Cioè non ce l'ha più la bolla L'avevo detto però E' un nuovo bus battaglia Avete visto Ma che figo ci sono io Con la topina Perché la topina Sono io che voglio il fuochetto C'è gente C'è gente Giosa anche Sembra molto bella la mappa ragazzi Sembra molto bella Voi Fatemi sapere Cosa ne pensate di questo evento E' stato un po' moscio E' bello Da vedere ma Molto lento Molto molto lento Finalmente una nuova mappa Non c'è più Non c'abbiamo più niente sotto Solo sopra nessun'isola Chissà come sarà il cielo Sono curioso Spero che questo video vi sia piaciuto E ci vediamo ovviamente al prossimo video Con la reazione del passa Ciao a tutti